A quasi due anni da quel 4 settembre 2013, quando Loredana Errore rimase coinvolta in un grave incidente d'auto, la cantante uscita dalla scuderia di Amici ha ripreso la sua vita di tutti i giorni. Pur essendo partita nello stesso momento di Emma, Loredana non ha avuto la sua stessa carriera né le stesse attenzioni da parte di Maria De Filippi. L'Errore non aveva mai detto nulla fino ad ora. La cantante però ha rilasciato un'intervista al quotidiano alla Sicilia in cui ammette di sentirsi delusa dalla signora di Canale 5 e di non aver mai ricevuto nemmeno una chiamata dopo l'incidente. La stessa accusa viene rivolta anche a Biagiantonacci che per Loredana ha scritto ragazza occhi cielo. So che si sono informati, dichiara l'errore, ma nessuno mi ha chiamato direttamente né ho avuto riscontri personali.